Luca Arrigo si ricomincia, dopo tanto mercato siamo all'Adenese Golfo di Nuovo. Si riparte, speriamo questa nuova stagione di riconfermarci. Resta il positivo che abbiamo fatto l'anno scorso, si riparte più forti. Le tue sensazioni? Perché quest'anno farei una promozione rispetto all'anno scorso. C'è tanta voglia di far bene, quello che sarà si vedrà. Adesso godiamoci l'inizio e aspettiamo il campionato. Che campionato di promozione ti aspetti? Ci sono quattro imperiesi, tra cui la tua ex San Stevese. No, sarà un bel campionato sicuramente. Sarà bello rincontrarci anche con loro e vedremo, dai.